Amici, alla Powerball è arrivato... Bambu Natale! Sì, Bambu! Bambu Natale! Bambu Natale! Bambu Natale! Bambu! Bambu Natale! Bambu! No, Bambu è Bambu! Ma portate che io si chiamano Bambu Natale! Cosa è? Bambu Natale! No, non dire... Bambu Natale! Cosa è Bambu Natale? Eh, Bambu Natale è... E rispetto agli amici! Salutiamo gli amici di Bambu... Amici di Bambu Natale! Bambu Natale! Vabbè, la mettiamo, la mettiamo... E... La mettiamo, la mettiamo! No, dopo! Poi andiamo in polizia a pecare le luci, salut! Cos'è? Chi è arrivato alla Powerball è la terza volta che facciamo. Chi è arrivato alla Powerball è... Bambu! Bambu Natale! Bambu Natale! Bambu Natale! Bambu Natale! Bambu Natale! Hai portato Bambu Natale i doni a pesa? Ma fai sì o no? Hai portato le gali a pesa? Ma non sei però nel tempo... Yuki! Sto a parlare con te! Si credo! Si credo!